Nunzia sta di casa in un basso e per lei quello è il corridoio per la signora Carmela quando si affaccia al balcone del primo piano diventa un teatro. Perlino che in quella vera non ci va più è la scuola. Ciccio se lo deve fare tutto impennando malamente con l'SH preparato se no non è lui. Per Sasena mazzata un frunto ogni volta che deve portare le casse d'acqua sopra dalla signora Fusco. Per Geni, Luca, Ciro, Susi e Maria è Ocampe Pallona. Pure per la signora Mauriella è Ocampe Pallona, ma se si vuole fare una mezz'ora di sonno lo deve arracquare col secchio fino a quando il creatore non se ne va nel caso allora. Con Mario e i bambini dell'orchestra hanno imparato a farlo risuonare come uno strumento musicale. Per Don Antonio, che si è fatto vecchio, è n'ai a stimma. Soprattutto quando passa chi lo disgrazia di Ciccio. Per Nelluccio facci peste è meglio che là in mezzo non si fa vedere più. Per Enzo sono gli ultimi cento metri prima di arrivare da Giussi. Mentre gli fa si sente sempre il cuore che gli sbatte forte in petto. Lui dice che è per la salita. Per Titina, Mene e Antonietta è la veranda dove si prende il fresco d'estate. Lucia, che lì c'è nata, da quando lavora alle catacombe e te lo racconta in tre lingue. Per Marianna e Francesca è la passerella del sabato pomeriggio. Per Peppe, che mo' si deve fare tre anni, è stato l'ufficio. Lì è dove Alessandro ha imparato a parlare napoletano e dove Gaetano ha imparato l'italiano da Alessandro. Per molti è un senso unico a salire, che quando in estate verso le tre e mezzo ci va il sole diventa uno specchio dorato e non si vede più niente. Salve, buongiorno a tutti. Inizio sempre con questo video perché dà un po' l'idea di quello che è il territorio e le mille attività che si stanno facendo nel Rione Sanità. Prima di iniziare con le slide, giusto un grazie agli amici di Cagliari che ci hanno invitato perché penso che la chiave di tanti successi sia sempre nel confronto, nel trovare tante similitudini nelle varie esperienze che adesso vengono definite di successo, ma è meglio quando lo dicono gli altri e quando ce lo si dice tra di noi, e nel trovare poi tante similitudini anche in contesti così differenti. Già ieri facendo qualche giro abbiamo trovato tanti di quegli aspetti in comune che legano le nostre esperienze. No, siete partiti da una cripta, ci dicevamo. Noi siamo partiti dalla cripta della chiesa di Santa Maria della Sanità dove ci sono le catacumbe di San Gaudioso, da cinque volontari come eravate voi in cinque e in tanti piccoli pezzi che hanno tutti un filo comune che è un filo proficuo di efficienza, di efficacia, cioè quella della messa a disposizione poi del territorio, della popolazione di questi determinati contesti di beni che erano nel nostro caso specifico al di sotto dei nostri piedi. Noi siamo partiti appunto da un progetto piccolissimo che era fatto di volontari all'interno di una chiesa che è stato quello della riapertura di semplici ragazzi del territorio che facevano da guide a quei pochissimi visitatori che venivano all'epoca nel rione Sanità e che non conoscevano il patrimonio nel quale il nostro territorio era altamente ricco. Ecco adesso Emilio dove sta che ci diceva le indicazioni sulla freccetta, sarà quella di sopra o quella di sotto? Ecco ovviamente quei due ne sono. Partendo con una frase che tra l'altro è di un vostro esule, no perché le reliquie di Sant'Agostino sono arrivate qua, vedete quante similitudini. La speranza ha due bellissime figlie, sdegno e coraggio. Lo sdegno per le cose come sono e il coraggio per cambiarle. Ecco, per noi questi aspetti sono stati fondamentali. Noi viviamo in un territorio, quello del rione Sanità, lo vedete lì poco in alto, al di sopra di quello che è considerato il centro storico, che per secoli è stato una sorta di catino nella città di Napoli. Il ponte che lo sovrasta, eccolo lì, fatto costruire dai francesi, tanti cari che sono venuti a Napoli agli inizi dell'Ottocento, hanno costruito una sorta di tangenziale antelittera. La Sanità era un rione che era di passaggio per la corte, per i commerci, quindi da nord a sud, dalla reggia di Capodimonte a quella giù a Palazzo Reale. Era un territorio fervido di commercio, di scambi, di passaggio. Con la costruzione di questo ponte, che è stato il primo caso al mondo di ponte che ha diviso invece che unire, la città praticamente c'è passata sopra. L'irrione Sanità ha vissuto un periodo di decadenza estremo nei commerci, nella vita quotidiana, ma anche una paralisi da un punto di vista culturale, di crescita, di sviluppo, mentre il resto della città si sviluppava culturalmente, socialmente, anche urbanisticamente. Il rione Sanità è rimasto affossato sotto quel ponte, con tutta una serie di conseguenze negative, ovviamente di sfondo sociale. Sicuramente la camorra non è nata ovviamente solo a causa di quel ponte, ma determinati meccanismi l'hanno sicuramente alimentata. Il rione Sanità era un luogo evitato da tutto e da tutti, dagli stessi napoletani che non ci mettevano piede. Noi citiamo sempre i poveri tassisti che adesso abbiamo coinvolto in alcune nostre attività. Quando qualcuno voleva venire da noi perché si iniziava a parlare delle catacombe, dei beni che avevamo a disposizione, volevano essere accompagnati ovviamente da tassisti e tassisti, era il primo che diceva, nella Sanità, ma che andate a fare? Cioè era il primo veicolo di non proliferazione da un punto di vista turistico, motivo per il quale abbiamo fatto delle visite apposta per loro, in modo tale da invogliarli a venire nel rione Sanità. Era un luogo conosciuto, è più per morti ammazzati, camorra ma di quella bella pesante che esportavamo in giro per la città, basi di spaccio, morti ammazzati durante la giornata, ma veramente cose allucinanti. E in quel territorio noi siamo nati e cresciuti. Dico noi siamo nati e cresciuti perché il segreto forse di questo, io non dico modello perché sembra una parola molto forte, è quello che è formato per la stragrande maggioranza da ragazzi che sono nati e cresciuti in quel territorio, da tutti considerato difficile, ma che hanno capito anche grazie a un visionario, a un folle, a un genio, non lo definiamo, che è Don Antonio Loffredo, che è stato il parroco che è arrivato in quella chiesa, la vedete lì vicino al punto, nel 2001 e che ha iniziato a capire che in quel territorio ovviamente c'erano dei tesori nascosti, che erano i più nascosti, in un territorio che era totalmente abbandonato, pieno di chiese, con tre catacombe di cui purtroppo non è accessibile, altre due sì, parliamo di migliaia di metri quadri di catacombe, 5.000 nella più grande, ma un territorio in qualche chilometro quadrato con 32.000 abitanti, un abbandono scolastico estremo, un tasso di disoccupazione allucinante, mancanza di servizi, di infrastrutture, quindi immaginate una situazione abbastanza tosta, il ponte era quello che avete visto sopra, ma parliamo di questo, parliamo di quella che vedete, la cripta della Basilica di Santa Maria della Sanità, un luogo tetro, perché prima del restauro, che abbiamo fatto arrivare finalmente dopo anni fondi pubblici per il restauro di quella cripta, era un luogo tetro che contava qualche sporadico visitatore, perché la gestione era appunto basata su pochissimi volontari prima della nostra gestione, arrivavano solo una nicchia di persone colte, un'ottica totalmente opposta a quella che era nostra, di chiusura dei beni, i beni erano per un'elite, per pochi eletti, questa gente che entra nelle catacombe, che c'entra a fare, ma perché devono visitare le catacombe? Partendo da quelle catacombe si è arrivata ad una gestione di luoghi, ad un recupero, un lavoro, uno sforzo immane che ha visto coinvolti i tanti, in un'ottica di inclusione, pensate che la sola cooperativa, la paranza che è partita con quei 5 volontari e che si occupava di fare semplicemente le guide, le visite guidate ai visitatori delle catacombe, ha iniziato ad includere le tante altre competenze dei ragazzi del rione Sanità, noi abbiamo iniziato 20 anni fa, non come cooperativa ma come volontari, a coinvolgere i tanti ragazzini che c'erano per strada, perché avevamo capito che purtroppo con molti adulti non c'era niente da fare, abbiamo iniziato con i ragazzini con progetti educativi, per iniziare ad includere, a tirarli dentro, cercando poi di incanalarli in quelli che potevano essere i loro talenti, perché è chiaro, non tutti potevano fare gli studiosi, gli archeologi delle catacombe, non tutti potevano essere dei bravi divulgatori, ma c'era magari che aveva più competenze manuali ed è stata fondata la cooperativa dei ragazzi che adesso si occupa della manutenzione di questi luoghi. Pensate, faccio un esempio, quando abbiamo iniziato la gestione nel 2009 delle catacombe, l'impianto di illuminazione consisteva in qualche lampadina scarna buttata qua e là, diciamo a casaccio, senza neanche molta cura e tutela, adesso l'intero impianto di illuminazione delle catacombe di San Gennaro è gestita da un'app col telefono, cioè pensate, che è una cosa che non si vede nemmeno nelle più grandi curate, diciamo, nei più grandi beni culturali, ovviamente è una questione di risparmio energetico, di tutela ambientale, ma anche di tutela degli affreschi e dei mosaici, ovviamente meno luce ricevono, più reggono, diciamo, più resistono. Vi dicevo un patrimonio unico, inestimabile, che nel corso di questi anni è stato messo a disposizione del territorio. Dicevo messo a disposizione perché citavo ovviamente non a caso Don Antonio Loffredo, lui si è trovato parroco solo in un territorio come quello che avete visto, con cinque chiese, due catacombe, case canoniche, giardini chiusi, il primo pensiero è stato io da solo che faccio con tutto questo, quindi tiriamo dentro ragazzi su ragazzi, ma mettiamo a disposizione quegli spazi per il territorio. Quale è uso più sacro, se non quello appunto della messa a disposizione per un territorio che ovviamente aveva un bisogno disarmante, da qui le case canoniche adesso, lui dicevo io a casa mia ce l'ho, che me ne faccio delle case canoniche, le case canoniche adesso sono il luogo dove si esercita l'orchestra sinfonica che è stata creata nel rione Sanità. Una delle chiese, che è ancora consacrata, diciamolo, è diventata teatro, è diventata, perché pure quella è un'attività sacra, no? Quale è un'attività più sacra è quella che è teatro? Il padre Antonio ogni tanto ci fa qualche missa per ribadire il concetto che è ancora un luogo consacrato, perché ovviamente il tutto si innesta in un meccanismo di difficile comunicazione fra i vari enti e le varie istituzioni che fanno parte del marasma con il quale questi edifici, un patrimonio immenso che è quello italiano, hanno la loro origine e il loro senso, ce ne abbiamo la chiesa che è di proprietà del ministero, la cripta con le catacombe che è di gestione del Vaticano, la palazzina che è della curia, se noi dovessimo mettere insieme a parlare in un'unica lingua, perché è quello che è il problema principale, tutte queste istituzioni non avremmo fatto niente. Quindi in qualche modo ci siamo lanciati con tanti rischi al punto tale da divenire una sorta di forza, di onda devastante per altri, per alcuni con un esito infimo negativo, ma ovviamente con un impatto sociale enorme su un territorio ovviamente considerato difficile. tutto questo che ha fatto, ha fatto sì che si sia creato, male detto, dicevo i vari enti che contribuiscono a tutto ciò, ma che si sia creato un impatto enorme, notevole da un punto di vista di numeri, da un punto di vista di ragazzi impegnati in quelle che sono le attività lavorative che si sono generate come indotto all'interno di quello che è un bacino più ampio che ne abbiamo costituito, che è quello appunto della fondazione di comunità. ci siamo resi conto che per mettere insieme tutte queste sinergie, questi attori, queste forze non bastava più la piccola cooperativa della Paranza che partita da quei cinque volontari adesso conta 39 ragazzi impegnati, tutti in rione sanità con contratti a tempo indeterminato e già questo basterebbe, no? Abbiamo creato una fetta di lavoro in un territorio dove lavoro e impegno non c'era, ma ovviamente abbiamo capito che non ci si poteva fermare a tutto ciò, ma che dovevamo costruire altro. Però prima di questo altro abbiamo qui l'invalida che ho già abbronchito, è arrivata qua a Cagliari, è una situazione diciamo assurda per cedere un attimo la parola a lei perché lei è uno degli esempi, vabbè si presenta lei, non voglio dirlo io perché sennò parlo troppo oggi, scusatemi. Allora, salve a tutti, penso che già mi abbiate sentito non parlare ma per la mia tosse mi dispiace però c'è stato, diciamo, l'aria condizionata in aereo mi ha rovinata. Cercherò di essere insomma breve di condividere con voi l'esperienza, la mia esperienza personale con la Paranza. Anche io come Gaetano sono nata e sono cresciuta nel rione Sanità e sia per tutta la mia infanzia che per la mia adolescenza essere del quartiere Sanità non era certo motivo di vanto né di orgoglio. L'associazione immediata a chi sapeva la nostra provenienza era l'associare il quartiere Sanità al pericolo, alla camorra e a tutto quello che per questo troviamo tante similitudini nella storia dei ragazzi di Corleone. Per cui ad un certo punto accade che una mia amica mi racconta di un gruppo di ragazzi che stavano iniziando a fare delle visite guidate al quartiere Sanità e io ero profondamente incuriosita da questo aspetto perché mi chiedevo abituati all'ordinarietà, abituati a quella tipo di quotidianità in cui ci sono stati pericoli di momenti, periodi di coprifuoco in cui non potevamo essere in strada e quindi lo si percepisce già dall'area quando sta per accadere qualcosa. Mi chiedevo ma cosa c'è da dire che non è già stato detto, cosa c'è da vedere a Rione Sanità, cosa c'è da mostrare che non è già stato mostrato dalle tv, dai giornali e ho scoperto un mondo, ho scoperto il mondo, un patrimonio abbandonato, un patrimonio potenziale che era potenziale perché era sconosciuto, non era fruibile, non era reso accessibile. Ho incontrato padre Antonio che è per noi la guida, è un visionario che ci ha dato l'opportunità di metterci in gioco e quindi uno dei testi che ha scritto, che racconta del nostro progetto si chiama proprio la scommessa di un parroco e dei suoi ragazzi. Padre Antonio ha creduto nelle nostre capacità, ci ha chiamato ad essere responsabili di un patrimonio artistico immenso presente nel nostro quartiere che bisognava riportare alla luce, semplicemente perché siamo stati in questo fortunati dal fatto che è un quartiere che è ricco di storia, nel 600 era l'area di pellegrinaggio della città di Napoli, quindi abbiamo semplicemente utilizzato quel patrimonio e abbiamo cercato di riportarlo sul palcoscenico internazionale, oggi internazionale. All'inizio come diceva Gaetano si era in 4, adesso siamo 39, da 5.000 visitatori del primo anno, l'anno scorso abbiamo festeggiato 130.000 visitatori, solo in un anno, esatto. Quest'anno 100.000 visitatori li abbiamo festeggiati ad agosto, per cui a dicembre chissà quanti ne saranno e per noi è importante proprio trasferire lo stesso diverso sguardo che padre Antonio ci ha insegnato ad avere, diciamo, a noi. Anche io sarei stata probabilmente una di quelle ragazze che avrebbe lasciato il quartiere sanità per andare altrove, padre Antonio diciamo a me personalmente ha insegnato a guardare al mio quartiere in una maniera diversa, in un'ottica diversa e quello che dicevi tu Giuliano prima è proprio questo, cioè in un inferno è difficile vedere il paradiso, se c'è un inferno. Noi siamo stati, o almeno io sono stata fortunata perché ho trovato padre Antonio che mi ha mostrato quel luogo, soprattutto per noi giovani è difficilissimo non cadere nello scoraggio anche quando hai davanti a te degli esempi di altri paesi e di altre nazioni che funzionano benissimo e quindi la volontà, la voglia, la tentazione di andare altrove è enorme. Noi abbiamo scelto invece di restare, abbiamo proprio le radici nel quartiere sanità e abbiamo puntato appunto a formarci nello studiare la storia di questi luoghi. All'inizio l'abbiamo fatto da autodidatti, poi abbiamo fatto corsi di formazione con professori, professionisti del settore. Ci siamo messi in gioco con la lingua perché all'inizio di visitatori erano pochissimi ed erano prevalentemente italiani, oggi sono la maggior parte di visitatori provenienti da tutte le nazioni, sono soprattutto stranieri, quindi oggi quotidianamente facciamo tour in italiano e in inglese, su richiesta anche in francese in spagnolo ed è un'opportunità di crescita per noi personale di ragazzi. Io ho avuto la possibilità di studiare ma ci sono tanti altri nostri amici che fanno parte della cooperativa che non hanno avuto la mia stessa possibilità e che l'hanno avuta lavorando, cioè iniziando a lavorare in questo progetto hanno poi avuto la possibilità di crescere, di mettersi in gioco, di studiare e di diventare persone competenti, qualificate, in grado di guidare il visitatore alla scoperta di questi luoghi che per noi sono come se fossero i nostri bambini, nel senso che li abbiamo curati nei minimi particolari e quello che cerchiamo di trasmettere ai visitatori e proprio lo sforzo che è stato fatto per arrivare qui, perché non è stato facile, ci sono stati anni se leggerete il testo di Padre Antonio e noi del Rione Sanità si legge di una famosa pasta e patata e mangiata all'interno della catagomma una sera perché fino a sera, fino a notte si è stato ad aggiustare la catagomma, a cercare di coprire le tombe al pavimento per consentire l'eventuale passaggio di visitatori stendendo il tappeto, la mochetta, ovunque, quindi un lavoro pratico, manuale, ha dato la possibilità poi di trovare lavoro a ragazzi che avevano queste capacità, un lavoro di racconto, di storie, come quello che faccio io che sono una delle guide delle catacombe, ha dato la possibilità a me e ad altri i nostri amici di metterci in gioco in quest'altro campo, Gaetano ne fa parte, i più grandi ormai della cooperativa, più grandi nel senso che siamo sempre giovanissimi, però si sono specializzati quindi oggi l'apparanza non è più, è una struttura, c'è Enzo che si occupa dell'ufficio comunicazione, c'è l'ufficio risorse umane. Le rubo il microfono, faccio un intervento in un minuto, poi vedete, non lo so ci facciamo prendere, perché è così, giusto per, dicevo l'aspetto della fondazione perché per noi è importante, forse il segreto di questo progetto, di questo processo che sta funzionando e che ha un impatto notevole è quello di aver messo insieme tutte le risorse del rione sanità e quando dico tutte, dico tutte le anime, per farlo abbiamo creato una fondazione di comunità all'interno della quale c'è un'associazione che è quella che io presiedo che si chiama Cooperazione San Gennaro che mette al suo interno tutte le cooperative sociali che lavorano nel rione ma quando dico tutte parlo non solo di quelle che si occupano delle catacombe come la paranza di cui facciamo parte ma anche quelle che si occupano di progetti socioeducativi con i ragazzi del rione perché quelli sono non solo un veicolo di crescita per i ragazzi stessi ma anche di intercettazione dei bisogni e dei talenti, come vi dicevo c'è chi può fare la guida ma c'è chi magari ha più abilità manuali, si lavora con le mamme e con le famiglie, sono nate cooperative di donne che si occupano adesso ad esempio di fare catering, altri vena artistica ovviamente napoletana innata e molti si sono riuniti in un'associazione adesso Nuovo Teatro Sanità fa il giro dell'Europa portando le loro attività e le loro piste teatrali ovunque ha fatto l'apparenza dei bambini che è scritta Saviano l'ha scritta per loro, loro hanno fatto 90 repliche nel nord Italia, cioè un successo clamoroso quindi non il teatrino parrocchiale ma come vi dicevo forse l'aver messo insieme tutte queste realtà fondazioni nazionali e quindi privati che hanno creduto in questo progetto perché toccavano i risultati, li vedevano senza perdersi in tante chiacchiere, hanno creduto e hanno investito in questo modello così come ovviamente all'interno della fondazione fanno parte le parrocchie e come raccontavo ieri la rete commercianti è un altro socio della fondazione, i commercianti hanno capito che di questo processo del fluire di 150.000, 200.000 visitatori era un passaggio all'interno del rione sanità, ne potevano beneficiare, si sono messi insieme per capire come poter contribuire con idee, con iniziative, ad esempio le imminenti notti bianche che faremo lì le organizzano loro perché ovviamente può essere una più specifica competenza quella dei commercianti trovare un'organizzazione per un evento, in tal senso sarò breve perché capisco che dobbiamo finire, però le catacombe come erano prima, vedete qualche ne ho messo lì e adesso vedete una totale fruibilità totalmente diversa, catacombe monumentali, fantastiche, immaginate questo livello inferiore della catacomba era inaccessibile, era quasi una discarica, è stato ripulito, è stata riportata alla luce, la basilica di San Gennaro Extramenia dove terminano le catacombe, immaginate questo edificio di proprietà dell'ASL, cioè per 50 anni è stata usata come deposito, ci mancavano soli cadaveri diciamo là dentro, quando siamo arrivati noi la prima cosa che abbiamo fatto era quella di capire che quello era ancora un luogo consacrato, quindi abbiamo detto ok, padre Antonio sempre, ha detto ok questo luogo consacrato deve essere restituito alle catacombe, lo sapete, essendo consacrato l'abbiamo ripulito e da lì che è partita la riqualificazione delle catacombe di San Gennaro e lì adesso si tengono eventi culturali, pure quelli sono sacri e dedicati alla comunità, ma prima vedevate alcuni numeri, cioè questa è la differenza dal 2006-5000 visitatori, 2018-129 mila, cioè immaginate l'indotto, quanto lavoro si crea e quanto poi tutto questo viene reinvestito nel territorio, cioè è quello poi l'elemento fondamentale, come vi dicevo non basta aver creato un'impresa che genera lavoro se poi in un territorio del genere tutto questo lavoro, questa forza, questo impatto non lo riversi sul territorio, cioè potremmo essere una buona attività, una buona impresa ma avulsa dal territorio per noi non avrebbe senso, per noi che siamo cresciuti lì, per noi che sapevamo che cosa accadeva in quel territorio sarebbe stata una totale follia a non reinvestire il nostro territorio, vabbè ci sarebbero 150 altra mille cose da dire ma che non vi dico, però è chiaro che tutto questo ha generato un approccio manageriale che coinvolge un lavoro di squadra enorme che va dalla comunicazione alla formazione, adesso le guide che vengono formate sono formate dai ragazzini che una volta facevano parte ai nostri progetti, ma che hanno studiato e si sono laureati in determinati settori e a loro volta sono formatori degli altri ragazzi e lo stesso vale per i progetti educativi, gli educatori adesso laureati in servizio sociale, scienza ed educazione erano i ragazzini che facevano con noi i compiti da piccolini, quindi immaginate entrando in un circuito virtuoso tutto questo genera tanta positività che poi si riversa ovviamente sul territorio, noi non ce ne siamo andati, ecco forse da piccoli forse ognuno di noi pensava ok ma io da qui che ci sto a fare, adesso c'è per loro una possibilità, noi abbiamo aperto le menti, di tanti abbiamo fatto sì che molti ragazzi vedano come fare per restare e non per andare via, forse questo delle tante parole, delle tante cose che noi ci diciamo è il segno più forte, più tangibile che ogni volta ci fa emozionare. l'ho chiuso giustamente, guarda caso, l'ha copiata lui, giusto una nota, però questa è per noi una cosa fantastica, veramente chiudo, il fatto che il professor Volpe, che per noi è un amico, cioè noi lo vediamo sempre, noi ci incontriamo spesso, dica che abbia imparato più da noi che dall'università, cioè è una cosa che diciamo è abbastanza forte, voi non me ne rendete conto di questa cosa, il fatto che poi usiamo anche alcune immagini, però su questa cosa ve la voglio dire come chiusura veramente, questa è l'immagine che è diventata l'icona e il simbolo della nostra fondazione ed è una fotografia di Mimmo Iodice, se non lo conoscete colpa vostra perché è uno dei più grandi fotografi della storia dell'umanità, ma veramente lo dico nel vero senso della parola, oggi è un ottantenne fantastico, un genio, è nato nel rione Sanità e in pochi lo sanno e questa immagine è Demetra, quella è la sua mano che mette insieme i cocci di un volto e questo la dice lunga su quello che è il senso del nostro lavoro, cioè che punta sulla rigenerazione che prima era stata nominata, umana e urbana, c'è la ricostruzione di un'umanità che era andata distrutta ma anche di una rigenerazione urbana che era andata persa, motivo per il quale noi stiamo agendo anche sul territorio migliorando gli spazi, non solo quelli che sono di nostra pertinenza ma anche quelli pubblici, riqualificando piazze, adesso siamo diventati un polo dei murales, anche il rione Sanità ce ne sono 18 giganti, quindi questo per noi è un'immagine molto forte che rende conto e dice tanto su quello che si sta ancora provando a fare, perché come vedete ovviamente noi miracoli non ne facciamo quel volto ancora, una crepa ma noi siamo là tutti quanti sotto, immaginate una schiera di centinaia a spingere ovviamente quella mano. Mi fermo qua perché sennò ho detto... Noi alla sanità siamo convinti che anche un volto deturpato possa essere bello, nonostante quella cicatrice. Quindi cerchiamo di restituire con quanto facciamo con il nostro lavoro bellezza e dignità anche ad un volto deturpato. Grazie insomma dell'attenzione. Grazie. Grazie. Grazie.